Mi chiamo Jacopo, ho 19 anni, vengo da Lugano in Ticino e studio al primo anno di bachelor scienza ingegneria dei materiali. Ho fatto il liceo di Lugano 1 e ho fatto lo scientifico in biologia e chimica. Ho scelto l'EPFL per i miei studi perché è una scuola molto quotata a livello internazionale, molto buona e soprattutto perché coinvolge tutte quelle materie che mi interessavano già dal liceo. Nella mia scelta di venire all'EPFL hanno contribuito tanto la scelta della lingua, il francese che è comunque molto simile all'italiano ed è già un vantaggio e soprattutto la città Lausanne che è una città molto bella, una città universitaria che permette tante opportunità per gli studenti e dall'altra parte è sempre una città simile a Lugano perché al lago la temperatura è simile e quindi ci si sente un po' a casa. I timori c'erano sicuramente perché è una scelta importante che probabilmente ti cambia la vita, bisogna però buttarsi nella vita e scegliere una strada. Gli studi in francese sono un po' più complicati di quelli in italiano perché ovviamente è una lingua diversa, però se si studia abbastanza e comunque si resta concentrati a lezione funzionano di sicuro. Per prendere l'abitudine francese semplicemente seguo lezione molto concentrato prendendo appunto in francese e poi traducendoli dopo lezione in italiano per avere un senso della lezione intera. Facendo gli studi in francese il beneficio è sicuramente di imparare un'altra lingua che comunque servirà nel futuro, dall'altra parte si nota che è più complicato perché non studi nella lingua in cui pensi. La presentazione di scienze ingegnerie dei materiali durante la giornata informativa dell'EPFL mi ha convinto a scegliere questa facoltà perché mi ha dato una visione dell'insieme di quello che si sarebbe andato a studiare durante i tre anni di bachelor e di quello che si avrebbe potuto fare una volta finiti gli studi. Ho scelto scienze ingegnerie dei materiali perché mi permetteva subito di iniziare a lavorare e studiare quelle materie che mi interessano e dall'altra parte mi permette di avere sbocchi lavorativi futuri molto interessanti in molti ambiti. Negli studi di scienze ingegnerie dei materiali mi interessa molto poter modificare i materiali e rendere la vita delle persone magari più comoda, più utile, più efficace cambiando semplicemente il materiale. Dopo i miei studi vorrei andare a lavorare nell'industria delle macchine perché trovo che sia molto interessante però come nella vita succede lascio tutte le porte aperte perché studiando varie materie posso sempre cambiare idea. Quello che mi aspetto dal primo semestre è comunque trovare un metodo di studio che funzioni e che mi aiuti a passare gli esami e comunque dall'altra parte vivermi questa vita universitaria che l'EPFL propone ed è molto interessante. L'EPFL è di sicuro un ambiente molto interessante creativo e per quanto riguarda l'ambiente lavorativo per l'appunto è comunque un ambiente molto serio in cui bisogna concentrarsi e lavorare in maniera seria. Il campus EPFL è enorme per uno studente che arriva da Lugano, fa anche un po' di paura la prima volta che si arriva ma dall'altra parte è davvero interessante perché ci sono un sacco di attività e un sacco di opportunità per gli studenti. Comunque venendo all'EPFL ho conosciuto abbastanza tanti ragazzi ticinesi e ovviamente come in tutte le scuole si formano i gruppetti in base alla lingua che si parla e questo è molto bello perché ci si sente sempre a casa indipendentemente da dove si è.